Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovissimo episodio su The Sims Nello scorso episodio abbiamo trasferito la famiglia di Jessica in questo appartamento che come potete vedere ho ristrutturato, ho cambiato un po' la disposizione delle stanze e sono andata a scaricare anche il materiale personalizzato che più mi piace ho utilizzato quasi tutto il materiale che ho scaricato in questa casa e prima però vi faccio vedere come ho cambiato i look di Tommy visto che Tommy è passato da bebè a bambino a Jessica non ho cambiato quasi niente se non due o tre vestiti Mark l'ho lasciato così com'era Emma invece ho cambiato i capelli, ho tolto i capelli lunghi perché effettivamente erano veramente lunghissimi e le ho messo questi che mi piacciono tantissimo, questi qua corti con le punte leggermente più chiare e con questo codino, questo ciuffetto legato dietro un po' così a caso, non proprio perfetto mi piace molto, ma passiamo ai look di Tommy ed eccolo qua Tommy, questo è il suo look quotidiano abbastanza sportivo perché comunque è un bambino, maglietta maniche corte, pantaloncini e scarpe da ginnastica questi capelli sono praticamente identici a quelli che aveva quando era bebè quindi ho mantenuto questi che mi piacciono molto poi il look formale è questo, camicia azzurra, pantaloni bianchi e all star look sportivo, maglietta gialla, pantaloncini e ancora all star look da notte, la maglietta con i palloni, questo non è materiale personalizzato le mutande sono dei pantaloncini dei boxer e le ciabatte con il coniglietto look da festa invece è questa maglietta maniche corte gialla, pantaloni neri e ancora all star e costume da bagno, questo che mi piace molto con l'infradito e questi sono i look di Tommy, questo è Tommy passato di età mi piace molto, anche come uscito lo preferivo sinceramente da bebè lo trovavo più dolce, più carino ma anche adesso è comunque molto simpatico quindi andiamo a giocare con loro come vi dicevo prima sono andata a cambiare drasticamente questo appartamento e infatti molti di voi mi hanno detto ma no già dalla casa di prima, l'appartamento di prima era molto più bello questo lo vedo molto cupo, molto triste, molto spento effettivamente come era prima non piaceva neanche a me anche se la casa dell'altra volta era stupenda ma anche questa mi piace molto, mi piace come uscita adesso vi faccio vedere bene tutto nel dettaglio però prima di farvi vedere ogni stanza singolarmente volevo farvi notare come è la casa vista dall'alto sono andata a rimpicciolire la camera e ho allargato il bagno poi ho fatto quest'altra stanza che in realtà non mi convince ancora al 100% quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche idea su cosa fare in questa stanza come utilizzare questo spazio nel frattempo fuori sta diluviando, piove tantissimo quindi se sentite il rumore di pioggia è per questo motivo allora partiamo questo è l'ingresso dell'appartamento prima c'era il... aspettate che tolgo i muri ok lasciamo così prima c'era la cucina qua che ho lasciato qua e questo invece era tutto il salotto qua c'era il divano e qua c'era la sala da pranzo comunque se volete vedere l'appartamento come era prima vi lascio linkato l'episodio precedente da qua si entra in casa ho messo questo muro basso che divide l'ingresso della cucina questa è la cucina che ho scaricato che mi piace molto mi piace il legno in contrasto con il bianco ho messo anche qua l'isola un po' come nella vecchia casa il frigorifero, il forno, il microonde, il cestino insomma le solite cose e poi il seggiolone per Emma poi c'è il salotto che è nella stessa stanza della cucina che mi piace molto la televisione, questo mobile con alcune cose come una fotografia delle borsine l'iPad, il registratore, qualche documento e poi questo tappeto che ragazzi mi piace un sacco veramente bellissimo il divano, questa similibreria dei quadri e un puff la zona soggiorno è forse una delle mie preferite e poi qua ho messo questo specchio enorme perché non sapevo cosa mettere non avevo altri quadri e quindi ho messo questo specchio poi c'è questa porta che porta in bagno tolgo un secondo il muro ok abbiamo il doppio lavandino con lo specchio la cesta per mettere tutti i vestiti sporchi il water e la vasca e il vasino per Emma poi da quest'altra parte invece c'è un'altra porta questa che porta dalla cucina al corridoio ho fatto un piccolo corridoio un po' come nell'appartamento precedente nella prima porta si va nella camera di Tommy che è veramente grandissima forse anche fin troppo grande ho messo alcune cose come materiale personalizzato ma tante altre invece sono oggetti che si trovano proprio nel gioco Tommy ha la sua scrivania perché adesso è un bambino quindi ha bisogno della sua scrivania ho scaricato anche il diario segreto quindi faremo scrivere qualcosa sul diario poi c'è lo zaino perché adesso inizierà ad andare a scuola questo tavolo che ho scaricato e si trova soltanto nell'espansione vita da genitori poi ci sono questi scatoloni che servono sempre per i progetti scolastici anche questi si trovano con l'espansione vita da genitori quest'altro tavolino questo se non sbaglio è per costruire per giocare con le costruzioni poi abbiamo la cassettiera le due finestre che danno sull'esterno l'armadio ovviamente il letto e il tappeto la camera di Tommy mi piace veramente tanto perché è super spaziose ci sono un sacco di cose per passare il tempo come questo tavolino i progetti scolastici insomma veramente tante tante cose poi visto che è avanzato un po' di spazio qua no c'era il bagno prima ho messo la palestra e tutte queste attrezze fanno parte del nuovo staff fitness staff ho messo il tapirulane la panca uno stereo e il tapirulane da arrampicata che così se vogliono allenarsi un po' non sarà necessario uscire andare in città o comunque andare in palestra ma hanno la palestra proprio qui a casa invece in quest'altra stanza ho messo le luci la videocamera e la sedia un po' come studio per fare i video per scattare delle foto visto che comunque Jessica fa parte insomma lavora per i social media però in realtà nel gioco vero è proprio questa stanza più di tanto non so quanto possa servire quindi se avete qualche consiglio fatemelo sapere poi tornando in salotto c'è questo corridoio vi metto di nuovo il muro ok c'è questo corridoio dove ho messo altre due cassettiere sto andando un po' lenta però voglio farvi vedere tutta la casa come l'ho organizzata perché mi piace un sacco come è cambiata ha fatto un cambiamento veramente drastico poi ho messo questo specchio con le luci che fa sempre parte dell'espansione vita da genitori poi ci sono queste due porte in questa si va in camera di Emma che anche la camera di Emma è veramente grandissima per essere una bambina ha una camera gigante c'è il suo lettino l'armadio un tavolino con le sedie poi c'è questa che è la casa delle bambole c'è questo mobile con qualche vestito poi c'è la cassettiera e la ciambella porta giocattoli questi sono tutti mobili che c'erano anche prima che ho utilizzato anche per la casa di prima però non voglio scaricare troppo materiale personalizzato quindi ho riciclato questi e poi l'ultima stanza è la camera dei genitori qua si entra sulla sinistra abbiamo la zona studio se così vogliamo chiamarla c'è una cassettiera e c'è il computer poi abbiamo queste due finestre bellissime che danno su una vista veramente molto molto bella guardate bellissima mi piace un sacco mi piacciono molto queste finestre super grandi poi c'è l'armadio il letto mi piace con questo copriletto di chi è veramente identico delle mensoline e poi la chicca la cosa che mi piace molto di questa stanza è che c'è il bagno soltanto per loro il bagno nella camera da letto ho messo queste vetrate per dividere le due stanze e poi c'è il bagno che è così la doccia il water e il lavandino il bagno si devo dire è molto molto piccolo ma super funzionale è veramente perfetto ci stava da dio secondo me in questo angolino e niente fatemi sapere se vi piace adesso la casa come uscite perché siete state in tante che vi siete lamentate del fatto che io abbia tolto tutto il materiale personalizzato poi ci sono ovviamente altre persone che invece preferiscono giocare senza il materiale personalizzato è questione di gusti io effettivamente come tanti altri preferisco giocare con il materiale personalizzato perché le case mi piacciono molto di più così e tutti questi pallini che vedete perché alcune volte me li chiedete cosa sono sono le luci sono le luci a led che fanno quindi la luce chiara bianca e non gialla e le preferisco a differenza di quelle che fanno la luce gialla comunque non mi perdo più un chiacchiere adesso finalmente giochiamo ho assunto una babysitter per riuscire a gestire al meglio la casa qui c'è Tommy qui c'è Emma qui c'è Jessica e Mark è ammalato abbiamo lasciato Mark ammalato quindi io direi Mark andiamo in camera da letto vieni al computer e vediamo se puoi ordinare allora ordine delle medicine acquista gli auricolari acquista la medicina ok medicina però costa 50 simeleon ok acquista grazie dell'ordine le medicine vediamo ho perso la notifica grazie dell'ordine le medicine che Mark ha acquistato si possono trovare nel suo inventario ok tra l'altro ragazzi un po' il gioco si è rallentato nuovamente perché comunque ho messo ancora un po' di materiale personalizzato ma poi in realtà il mio gioco va anche un po' lento perché un sacco di cose sul computer come i programmi di editing poi adesso c'è attivo anche aperto anche il programma per registrare lo schermo insomma veramente tanti programmi che mi servono sul computer che mi occupano tanto spazio poi The Sims in sé occupa un sacco di spazio con tutte le espansioni ancora di più e quindi vabbè me lo tengo così per il momento poi magari vedrò se aumentare un po' la memoria del computer però va bene lo stesso quindi Mark stavo dicendo dall'inventario prendi la medicina ok prendi la medicina vediamo se così guarisce perché poverino è pieno di macchie ok forse è guarito o no no non ancora però è felice Mark ha preso la medicina e ha lottato con successo contro il raffreddore ok aveva semplicemente un po' di raffreddore mi ero preoccupata inizialmente però aveva soltanto un po' di raffreddore vediamo ok le macchie sono sparite bene Mark bene adesso Mark facciamo una cosa insegna qualcosina ad Emma allora insegna a usare il vasino e poi allora fai un discorsetto cioè perché fai un discorsetto a proposito vediamo Emma le abilità di Emma allora comunicazione 3 immaginazione 2 movimento 3 pensiero 2 vasino 1 deve assolutamente imparare meglio col vasino quindi aiuta con il vasino Mark ok poi Emma ha bisogno di divertirsi quindi facciamo una cosa vediamo se puoi venire qua in camera del fratello e puoi giocare con queste cose cos'è non può soltanto guardare e non giocare è triste perché ha bisogno di giocare qua cos'è non ancora quindi andiamo in camera sua ecco qua c'è Tommy che sta giocando con la casa delle bambole gioca con le bambole partecipa al gioco con le bambole ok vieni qua con Tommy a giocare con Tommy e poi cosa possiamo fare con Tommy partecipa al gioco abbraccia chiama da Teddy fai delle facce buffe che così si alza la sua abilità di comunicazione parla del colore preferito facciamo interagire un po' i due fratellini altre scelte amichevole abbraccia ok poverina è triste è triste ha bisogno di divertimento si adesso vai qua cosa abbiamo cos'è eliminiamo gioca con le bambole ok e vai livello 4 superato livello di abilità raggiunto per Emma bene racconta una barzelletta parla della festa abbraccia di stupidaggini e poi ultima cosa altre scelte buffo fai delle facce buffe ok poi Tommy invece creatività 2 mentale 1 motoria 2 sociale 3 vediamo lui cosa può fare con Emma racconta una storia sciocca vediamo se c'è qualcosa in più amichevole chiedi della sua giornata chiedi di un altro sim ok no quindi facciamo una cosa vediamo se può riporre impacchetta nel pranzo al sacco prendi la porzione per Emma riponi facciamo lavorare un po' Tommy adesso riordinare casa riponi e poi vediamo se il computer può fare qualcosa esercitati nella battitura curioso fra le opere d'arte c'è anche chat ho visto chiacchiera nell'area di chat per bambini ok qua invece vediamo esercitati sfida un sim gioca con gioca con no che è soltanto con gli adulti quindi con Jessica vediamo cosa possono fare arriva un sms a Mark allora si stanno scatenando alle rovine ti va di andare a vedere rovine antiche ok accetta facciamo nulla non mi interessa grazie poi un'altra cosa adesso sta arrivando Jessica per giocare un'altra cosa qua abbiamo i progetti scolastici inizia a lavorare attentamente inizia a lavorare negligentemente metti nell'inventario inizia a lavorare attentamente intanto Jessica si è seduta da sola a giocare con queste costruzioni guardatela per quanto riguarda il lavoro di Jessica vediamo lavoro raggiunge il livello 5 di comicità l'abbiamo fatto aggiorna il profilo sui social network due volte trasmetti in streaming per 4 ore facciamolo ragazze facciamolo visto che sta lavorando da casa lei adesso alt Jessica è furente perché sei furente vicini rumorosi oh mio dio ci sono sempre sempre vicini rumorosi sempre ecco qua batti sulla porta e che cavolo sempre noi ci mettiamo sempre i vicini rumorosi tutte le sante volte ecco la che sta andando super arrabbiata raggiunto il livello 2 di vasino per Emma ok quindi vediamo cosa succede rimprovera aspramente provoca oddio oddio lamentati furentemente del rumore è arrabbiatissima è arrabbiatissima beh spegni sta musica abbiamo anche due bambini piccoli per favore scuse eleganti perché scuse eleganti di cosa spintuna no vabbè ma lui adesso spegne o no la musica è soddisfatta però un senso soddisfatto non prova particolarmente ok ok bene ce l'abbiamo fatta ottimo quindi Jessica è tornata qua intanto Emma è sul vasino sta imparando bene allora asciuga e poi torniamo al computer e abbiamo detto che devi cosa aggiornare il profilo sui social media quindi social network vediamo se lo trovo aggiornare lo stato sui social media questo dobbiamo farlo due volte quindi social network aggiornare lo stato sui social media poi abbiamo trasmetti streaming per quattro ore ero un po' che non lavoravo con Jessica social network trasmetti lo stato forse no quindi gioca probabilmente gioca una partita streaming ok eccolo qua trasmetti sim per sempre o sporti facciamo sporti incredibili in streaming alt non mi ero accorta di questa cosa perché non lo puoi fare forse la sedia siediti vediamo forse la sedia è il problema forse sì alt cambiamo sedia quindi togliamo questa e mettiamo proviamo questa ok vediamo se adesso funziona social network aggiorna lo stato ok adesso funziona quindi era la sedia che dava problemi bene facciamolo due volte quindi aggiorna lo stato e poi gioca una partita streaming trasmetti in streaming ok perfetto sì il problema era proprio la sedia ok Emma sta dormendo senza capelli vabbè questi bug non notateli per favore poi andiamo da Tommy Tommy sta ancora giocando al computer sì si sta esercitando nella battitura bravo Tommy bravo continua così così a scuola sarai bravissimo Jessica ha acquisito alcuni nuovi follower mentre aggiornava il proprio stato sui social media ora Jessica ha 86.000 follower sono tantissimi ok lui è felice molto molto bene Mark invece si sta guardando la televisione intanto il vicino è fuori di casa con la musica accesa vabbè facciamo finta di niente quindi abbiamo Jessica che sta trasmettendo in streaming sta giocando a calcio no vabbè a calcio ok Mark invece a che punto è di lavoro responsabile regionale deve raggiungere il livello 4 di carisma questo lo può fare specchiandosi quindi facciamoglielo fare esercitati nei discorsi oddio si sta grattando ancora bisogna della medicina aspettate no vabbè gli è tornato il raffreddore ancora quindi Mark prendi ancora una medicina non hai più medicine quindi vediamo se possiamo ordinarle dal telefono allora gioco una partita no 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 di farlo per forza dal computer ok ordina acquista la medicina una ok ottimo quindi adesso Mark prendi la medicina si sta esercitando intanto nei discorsi cosa stai facendo dai prendi la medicina sono le due e mezza di notte ok si sta grattando tantissimo ok bene ok è guarito perfetto perfetto vediamo se hai qualche necessità no tutto tutto nella norma tutto perfetto Jessica ha bisogno di andare in bagno ma intanto lei sta continuando a giocare a trasvettere in stream ciao ne ancora per un bel po' di tempo quindi facciamola lavorare Tommy invece sta giocando adesso Tommy quindi vieni qua Mark fai un discorso esortativo poi gioca qua gioca con con Tommy ovviamente Jessica ha guadagnato 1200 follower ok ah ok devono togliere i bastoncini senza far cadere tutto bravo Tommy vediamo Mark la prossima mossa bene dai dai Tommy bravo ok quindi questo in sostanza è il gioco di questo tavolino e l'abbiamo capito invece voi due fate qualcosina dai offri consigli sulla carriera colpo d'anca colpo d'anca poi aneddoto divertente altre scelte romantico bacia oddio qua c'è da ripulire ripulisci ah ma Tommy non puoi andare qua a giocare quello che ho capito no guarda non vuole vedere i suoi genitori che si stanno baciando incredibile incredibile scatta una foto insieme dai scattiamo una foto insieme che è da un po' che non ne scattiamo una vediamo wow bene Tommy vediamo cosa sta facendo niente Jessica magari prepara il pranzo per domani visto che sono le 5 del mattino prepara un pranzo al sacco facciamo tramezzino il burro di arachidi e marmellata per Tommy visto che domani devi andare a scuola Tommy cosa possiamo fare col papà parla della scuola fai lo scemo no vabbè avete visto c'era fai lo scemo se non c'è più amichevole no non c'è più chiediti di farti mettere a letto ah vediamo ah ok quindi Tommy deve farsi mettere ancora a letto ok Emma sta ancora dormendo perfetto buonanotte Tommy è mattina sono le 7 prepara Jessica la colazione per tutti ti serve la colazione yogurt e frutta Tommy e Emma stanno ancora dormendo Mark invece è qui fermo in piedi quindi fai una cosa Mark compila i rapporti per il lavoro sul computer Jessica invece sta preparando ha preparato la colazione per tutti quindi direi chiama tavola e vai a svegliare Tommy sveglia e poi svegliamo anche Emma visto che sta dormendo veramente da un bel po' di tempo eccola qua adesso sta arrivando Jessica a svegliarla sta dormendo tranquilla ha bisogno però di divertimento quindi Emma gioca con le bambole o meglio gioca con le bambole con Tommy guardatela che bella qui che arriva Tommy adesso giaccano un po' insieme tanto oggi è domenica quindi non vanno a scuola oddio che cosa Jessica ha avuto dei giramenti di testa mi è sembrato di vedere cosa aveva boh vabbè auricolari accendi no niente ok boh non lo so Tommy chiacchiera un po' con Emma racconta una storia sciocca fai delle facce buffa dai il cibo dell'inventario ah si vediamo torta al cioccolato è un po' di torta al cioccolato a Emma intanto Emma ha raggiunto il livello 3 di abilità dell'immaginazione bene giocate insieme voi Mark è ancora il computer che sta compilando i rapporti tra l'altro prima mi sono dimenticata di farvelo vedere quando ho vi ho fatto vedere la camera di Tommy nella camera di Tommy ho messo questo cartellone per il coprifuoco anche questo si trova nell'espansione vita da genitori scrivi un messaggio per Jessica ah ok invece Jessica vediamo intanto sono nel telefono a Jessica e Jessica andiamo ad approfittare delle incredibili opportunità culturali offerte dalla città ho saputo che in programma un'opera stasera verso le 20 ti va di andarci a nulla per il momento stavo dicendo vedi si può scrivere un messaggio oppure se si è genitore stabilire il coprifuoco aiuto quanti messaggi ok abbiamo perso comunque stabilisci il coprifuoco stabilisci il coprifuoco alle 23 alle 19 alle 21 facciamo alle 21 per Tommy Emma è triste disgustoso blè rivoltante quel cibo non era buono oddio cosa gli hanno dato da mangiare povera Emma ha bisogno tra l'altro di andare anche a fare la pipì ascolta ok oddio no vabbè ma si è ammalata anche Jessica non ci posso credere non ci posso proprio credere prendi la medicina ok tutti malati qua tutti ammalati sono ok Jessica ha preso la medicina quindi è guarita anche lei ha lottato contro il raffreddore ed Emma sta di nuovo imparando con il vasino insegna a Emma usare il vasino vediamo l'abilità di Emma di vasino quanto è arrivata vasino 2 comunicazione 4 immaginazione 3 movimento 3 pensiero 2 ok è ancora triste per il cibo disgustoso quindi dopo dè qualcosa da mangiare dè il cibo dall'inventario cosa abbiamo tacos di pesce proviamo con quello abbiamo i due fratelli in bagno Emma sta imparando a usare il vasino e Tommy invece sta facendo un bagno sono andata a togliere in camera di Tommy un po' di cose perché altrimenti il tavolino delle costruzioni perché altrimenti non poteva giocare non poteva esercitarsi con questo progetto scolastico robotica wow che bello quindi adesso sta alzando la sua abilità mentale lavora negligentemente adesso invece sta lavorando attentamente ok bravo Tommy ciao ciao sta fantasticando anche bravo bravo dopo hai bisogno di dormire e di mangiare quindi vai a mangiare qualcosa e poi dormi ok ah no vabbè guardate cosa stanno facendo stanno giocando da soli con questo gioco va bene fantastico riavvia il gioco vediamo adesso gli sta chiedendo se ha voglia di fare fichi fichi mi sa di sì o no no niente oh ma questi soldini dove sono arrivati ah ok così stanno amoreggiando fatti avanti fichi che braccia che ha Mark forse sono un po' troppo adesso un po' troppo grandi fai un massaggio io direi visto che stanno dormendo tutti di mandare a dormire anche Jessica e Mark domani inizia una nuova settimana allora dormi e anche Jessica poi dormi dicevo domani inizierà una nuova settimana quindi inizierà il primo giorno di scuola per Tommy fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo episodio in casa tranquillissimo vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo episodio ciao ciao